Musica 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 Abbiamo inviato questa rassegna dove ci sono gli autori che raccontano e parlano del loro testo e gli spettatori vedranno che cosa c'è nascosto sotto Musica 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 E' un testo che parla di un padre Quello che volevo era prendere una figura che avesse una cosa importante e toglierla Volevo fare questo come esperimento Volevo questo ambiente che fosse estremamente soffocante e difficile da... da quale fosse difficile uscire E in più ho scelto uno che si incatena a questo ambiente così soffocante Perché si incatena? Perché quando ci viene tolto ciò che amiamo è facilissimo cadere nella palude del dolore Che belle mani forti che hai Mi stringi una mano Tanto sonno Tanto sonno Dormi allora Io sono qui se ne bisogna Tanto sonno Tanto sonno Tanto sonno Tanto sonno Tanto sonno Il padre è seduto su una seggiolina E al mare Solo Sta pescando E prende un pesce Grazie a tutti.